Ciao, mi chiamo Gaia Lucchini, sono un'artista, parolone dire artista, comunque tendo a mischiare la danza, il teatro, la pittura e la scultura in un tutt'uno per creare sempre delle situazioni, degli ambienti un po' particolari che vivo, la speranza di farli vivere anche alle persone che poi vengono a visitare queste stanze o questi luoghi da me creati. Per il Contemporary Art ho scelto di creare una favola contemporanea, un po' postmoderna, portando una cenerentola dei giorni d'oggi, quindi una ragazza in tailleur, giacca e cravatta, con la sua borsa del computer, che vive in una metropoli scura, con il suo cielo grigio, molto notturna, che poi in realtà sogna di vivere la vita di una principessa, la tipica favola di cenerentola che tutte le donne un po' sognano di poter vivere prima o poi e quindi si trasforma nell'altra parte della vetrina, perché sarà poi in vetrina, e si trasforma in questa principessa in mezzo a un mondo incantato, pieno di fiori, uccellini, farfalle, montagne colorate. Tre parole chiave per descrivere quello che faccio, direi magico, favoleggiante e anche un po' misterioso.